Ciao ragazzi, allora qui adesso siamo arrivati un po' ai piedi di quello che è l'agriturismo e come vedete questi sono pascoli molto pericolosi per il bestiame, anche se Nico il pastore mi diceva che quest'anno fortunatamente è un'annata ancora tranquilla, perché c'è una grande produzione come ungulati di cerve e quindi i lupi si stanno alimentando, cacciando e uccidendo le cerve, questo è sempre un grande vantaggio che ha il pastore laggiù dove c'è selvaggina consistente perché i lupi anche se sono in branco, perché qui in queste pinete ci sono alcuni branchi stabili su queste montagne come vedete, anche questi pascoli sono abbastanza come si dice pericolosi perché il lupo può muoversi facilmente fra gli alberi, nella pineta, nei boschi, nella foresta, saltar fuori e predare senza scoprirsi molto e nello stesso tempo, ecco quella che voi vedete adesso ad arrivare è un cucciolo, Nico è un maschio o femmina quello? Ecco questo è un cucciolo maschio che è il figlio di una femmina, ecco che sta arrivando adesso che sono praticamente i due cani che Nico sta destinando per questo pascolo di capre che lui ha e che sposta con questa rete elettrica per fargli mangiare, ecco Tati, normalmente si tratta di cani che togliendo abbaiare inizialmente non si dimostrano mai così troppo aggressivi nei confronti dell'uomo, segnalano e basta, ecco qua sono praticamente le capre che loro proteggono, ecco se non ci fosse questi cani a protezione ovviamente il lupo si sarebbe fatto vivo, anche se mi diceva Nico che questo è un'annata particolarmente fortunata, non c'è ancora stato troppe predazioni in giro perché i lupi si stanno ancora alimentando con una nascita cospicua che c'è stato di cerve, laggiù dove il cervo è femmina per i lupi è una preda molto più facile e di conseguenza riescono ad alimentarsi con questo, ecco questo ad esempio sono le capre, queste sono una coppia di cani che le persone che interagiranno al corso potranno poi, scusate, che parteciperanno al corso potranno poi interagire, vederli poi bene al lavoro eccetera, poi adesso c'è una disposizione di cani animali prima della stagione estiva, in inverno o meglio ancora prima in autunno e già dal primo settembre c'è tutta un'altra disposizione di cani animali e pascoli perché il turismo è molto meno presente, poi vi farò vedere alcuni cani maschi che ho dato a questo pastore che ha saputo gestirli sempre in modo ottimale e il percorso che ha fatto ovviamente gli è servito, tant'è che lui di problemi per adesso non ne ha mai avuti, anche se li deve a volte tenere chiusi perché i problemi non sono per questi cani le persone, i turisti ma la pretesa che molte volte hanno purtroppo i turisti mal istruiti di volersi avvicinare al bestiame protetto dai cani con i loro cani domestici, immaginando che il cane antilupo possa essere indifferente ai cani poiché si chiama antilupo, ma in realtà questa tipologia di cani sono molto riluttanti a tutto ciò che può in qualche modo rappresentare una concorrenza nei confronti di questa riserva di cibo perché è risaputo che il bestiame per i cani da guardiani antilupo rappresenta un'importanza, un'importante riserva di cibo ed è il motivo per il quale la protegge dai predatori, a volte rischia anche la vita pur di cercare di conservarle in questo modo. Bene, questo è il primo filmato che vi faccio vedere con questa femmina che è stata madre di alcuni cuccioli, tra l'altro anche di una femmina che io mi sono preso l'anno scorso in questi pascoli che invece era molto predisposta per la guardia, allora l'ho destinata ad un altro compito, mentre questi hanno una destinazione maggiore per cosa riguarda il bestiame, segnalano la presenza di estrani ma come vedete sono qua che li filmo, non mi conoscono assolutamente ma io adesso mi sto avvicinando, gli parlo, tato vieni, tati vedete sono praticamente indifferenti, io sono proprio al confine della proprietà e loro in poche parole non mi dicono niente, ma questo è solo un cucciolone, ma questa è una fattrice che ha già alcuni anni ed è stata proprio selezionata appositamente per lavorare col bestiame perché veda negli altri animali dei concorrenti ma abbia un'elevata tolleranza nei confronti dell'essere umano estraneo, tanto per ridurre tutte le problematiche con i tanti turisti che ci sono in queste meravigliose valli che insomma sono frequentati da tanti anni di chi ha passione della montagna, bene allora per questo filmato è tutto e adesso vi rimando al prossimo filmato dove andremo a vedere dei maschi che sono a protezione di una mandria di mucche e di asini perché i lupi attaccano spesso in queste zone specialmente adiacenti a queste boscagie anche altri tipi ai mali non solo pecore e capre ok vi saluto con questo bel primo piano tati ecco esatto